Se potessimo racchiudere l'euforia, l'allegria, l'instancabile voglia di giocare e la felicità in un unico corpo, probabilmente questo sarebbe il Pitcher. La razza ha origini tedesche e si suddivide in due categorie, Pitcher con una fascia di peso dai 14 ai 20 kg e Pitcher Nano, quest'ultimo più diffuso tra le famiglie che invece ha un peso che varia dai 4 ai 6 kg. Curioso, vivace e molto sicuro di sé, ma allo stesso tempo dolce e amorevole. Adora muoversi e giocare fino allo sfinimento, adatto anche per discipline come l'agility. È temerario e ha coraggio da vendere, sa essere un ottimo cane da guardia, pronto ad abbaiare e segnalare quando c'è qualcosa che non lo convinci del tutto. In effetti l'unica cosa che teme è il freddo, il pelo sottile e il poco grasso non gli offrono abbastanza protezione dalle basse temperature. È importante quindi proteggerlo con un cappottino. Se si sceglie un Pitcher Nano come animale da compagnia, bisogna anche fare molta attenzione all'alimentazione. Sono molto ghiotti e tendono ad ingrassare facilmente e per questo hanno bisogno di una giusta dieta, anche perché l'eleganza del Pitcher risiede proprio nella sua corporatura esile e slanciata. Girare questo video non è stato affatto semplice. Provate voi ad inseguire un Pitcher Nano con l'intento di fargli qualche ripresa, ma alla fine, con un po' di costanza e una sana sudata, ce l'abbiamo fatta. Madonna mia! Il che significa che ci meritiamo un bel like e l'iscrizione al nostro canale YouTube. E naturalmente, se avete altre curiosità da condividere, vi invitiamo a scriverlo nei commenti.